Previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio. Al nord tempo in ulteriore peggioramento con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e precipitazioni in estensione entro il pomeriggio. Al centro nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte delle regioni con fenomeni in intensificazione sulle tirreniche dalla Toscana, in attenuazione invece sulle Adriatiche. Al sud schiarite nella prima parte del giorno salvo residui fenomeni su Salento e ovest Sicilia. Venti moderati tesi tra ovest e sud est. Mari mossi o molto mossi. Temperature stabili o in locale diminuzione.